Un laboratorio a cielo aperto dove provare a mettere in pratica concretamente il recupero di un territorio oggi abbandonato ma dalle enormi potenzialità. E' quello che sarà per gli studenti della Facoltà di Architettura dell'Università di Genova e non solo la Collina delle Grazie a Chiavari. Una porzione molto pregiata di proprietà della Fondazione Torriglia è data in gestione con un contratto di affitto alla società HGM, la quale ha intenzione di recuperarla dal punto di vista turistico e ambientale. Siamo convinti infatti che soltanto con il ritorno dell'uomo in qualche maniera su quella zona si possa preservare un ambiente unico. Quindi nessun tipo di speculazione, anzi il pregio di quella zona di tipo ambientale ci consentirà poi di promuoverlo meglio perché l'intenzione è quella di fare un albergo diffuso, quindi di creare condizioni perché si sviluppi un certo tipo di turismo a Chiavari e insieme con le attività turistiche si possa sviluppare anche nuova occupazione. Questi sono obiettivi fondamentali per cui nessun intento speculativo, nessuna voglia di stravolgere un sito che comunque è patrimonio del Torriglia ma anche di tutti i chiavaresi e quindi l'auspicio è che possa ritornare anche la popolazione chiavaresa a frequentare quelle zone attraverso appunto il recupero dei sentieri e quant'altro. Nel frattempo continua l'opera di pulizia affidata al Pellicano Verde, cooperativa del gruppo Tassano. Rovi e Serpaglie sono state tolti e sono tornate accessibili diverse zone dell'Uliveto che sale lungo la collina. Resta da sciogliere il nodo legale relativo alla competenza di alcuni interventi urgenti di manutenzione ma l'accordo siglato con l'università rappresenta un segnale di attenzione da parte della società HGM. È un segnale di conferma da parte di HGM di attenzione al territorio. Da parte nostra stiamo cercando con HGM in termini di confronto civile direi di risolvere questo problema interpretativo di questo contratto che lascia adito a interpretazioni diverse e dobbiamo cercare di trovare una sintesi che dia soddisfazione a entrambe le parti.